Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro presso il Bialetti Store di Milano in Corso Garibaldi. Siamo qui con il nostro artista che ci ha omaggiato di queste bellissime opere e ha realizzato in esclusiva per questo evento. Io sono Gaia Mazzonna, responsabile di comunicazione Bialetti Industrie e adesso vi facciamo vedere alcune opere e vi spieghiamo il concept che è stato creato dall'artista. Buonasera, mi chiamo Nicolo Camaiora, ho creato questo progetto che ho chiamato Iconist. Naturalmente il nome deriva proprio dalla raffigurazione dell'icona del design, la moca Bialetti, che potete vedere raffigurata in 5 concept differenti. Ogni concept ha un significato più preciso. Si parte da quello creato appositamente per il bel art e è un omaggio al Made in Italy. Passando per il communication, che è il significato dell'oggetto che letteralmente spiega all'osservante l'importanza della moca express. Il terzo concept è il pop e la sua ironicità e la sua vivacità. Il quarto concept è l'art, simulando la pennellata del pittore per comunicare che questo oggetto è un'opera d'arte.